Tra i programmi più seguiti di Canale 5 c'è anche amici di Maria De Filippi. La nuova edizione ripartirà a settembre, con nuovi talenti e probabilmente nuovi professori. Ogni anno praticamente ci sono dei cambiamenti sulle cattedre di ballo e canto dunque in queste settimane i rumor su eventuali addi e nuove leve si fanno sempre più insistenti. E se non sembrano in discussione i posti di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, pare siano più incerti quelli di Emanuello, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Soprattutto su quest'ultimo, l'addio ad amici nell'edizione 2024 fratto 2025 sembra sempre più vicino e sui social non mancano anche indiscrezioni su chi possa essere il suo sostituto. Amici, via Raimondo Todaro, al suo posto l'ex ballerino. Non è la prima volta che si vocifera di un suo addio e ora l'influencer Viviana Bazzani lancia un'indiscrezione molto interessante sul suo presunto sostituto. Secondo l'opinionista TV, Maria De Filippi starebbe pensando di arruolare nel cast il ballerino Adriano Bettinelli, noto al pubblico perché è stato uno dei allievi nelle passate edizioni del talent. Per la cattedra di danza, dunque, al posto di Raimondo Todaro potrebbe arrivare Adriano Bettinelli che nel frattempo ha fatto carriera. Ve lo ricordate? Partecipò nel 2008, era allievo di Garrison e arrivò anche alla fase del serale nella squadra blu ma poi è stato eliminato. Il ballerino non convince mai la sua nemica Alessandra Celentano, che lo definì scarso e con poca tecnica in una puntata storica del programma ma poi smentì la prof facendosi strada nella danza e anche nella scuola. Anni dopo infatti è tornato nella scuola Manelcast dei professionisti ed è notizia di qualche mese fa che è volato oltreoceano ed è entrato nel corpo di ballo di Mariah Carey al parque MGM di Las Vegas, The Celebration of Mimi Live in Las Vegas.